Un sogno rincorso per ben 36 anni, correva infatti il 1979 quando vide la luce l'FC Satriano. Tanti i presidenti e i dirigenti che si sono succeduti in questi anni e ieri sera la società ha finalmente potuto festeggiare il raggiungimento dello storico traguardo. Il Satriano approda per la prima volta in eccellenza dopo un'annata esaltante, spesso interpretando il ruolo di inseguitrice ma sempre in prima linea tra le pretendenti al titolo. Grande festa in piazza Umberto I con un paese decorato per l'occasione di bandierine sciarpe. Alla presenza del sindaco Vincenzo Pascale hanno sfilato in piazza il presidente Mario Antonio Pascale, il DS Angelo Mastroberti, l'allenatore Dino Telesca e i componenti della Rosa. La società ha voluto condividere questo successo con tutti i presidenti che hanno fatto la storia calcistica di Satriano. Alla dirigenza va il merito di aver costruito un gruppo vincente, affamato e al contempo affiatato. E la stessa comunità ne sa qualcosa tra le mure amiche e il Satriano ha asfaltato tutte le avversarie e infatti l'unica compagine del campionato di promozione ad aver sempre vinto nelle gare disputate in casa. A mister Dino Telesca invece il merito di aver creato una mentalità offensiva e un gioco spettacolare e propositivo. Ben 86 reti all'attivo di cui ben 39 realizzate dal duo Rocco Mastroberti e Antonino Barra, il primo capitano, il secondo bomber e capo cannoniere del campionato. Obiettivo centrato dunque, la soddisfazione tra i diretti protagonisti è incontenibile. Che cosa vuol dire per Satriano questo successo, la storica promozione in eccellenza? Credo che sia sicuramente un grandissimo risultato, un ulteriore passo verso una piccola comunità di valorizzazione del territorio. Noi siamo convinti che anche attraverso il calcio, perché il calcio unisce, socializza, si riescono a valorizzare quelle che sono le dinamiche di un paese, il paese tutto, oltre a quelle che poi sono le attività artistiche e culturali di un luogo. Lo sport contribuisce molto in questo. Entrare nella storia del calcio da Triano è davvero bellissimo, essere il presidente di questa squadra è davvero una gioia immensa. E poi ringrazio tutti dalla comunità satranese che ci è stata sempre molto vicino. Noi ci abbiamo creduto dall'inizio, nel senso che abbiamo iniziato questo campionato con l'impegno di fare bene verso la società. Poi facevamo vittoria su vittoria e poi con questo gruppo eccezionale alla fine abbiamo avuto ragione. Vincerla in un paese piccolo come Satriano non era mai arrivata a questo traguardo è una cosa che ci riempie di soddisfazione, anche perché era questo l'obiettivo con cui abbiamo iniziato la stagione e portarlo al termine è una soddisfazione enorme perché poi vedere una comunità che partecipa, che dall'amministrazione comunale ha tanta gente la domenica che ci ha seguito allo stadio, è una soddisfazione enorme. Satriano secondo te cosa ha avuto in più? L'arma in più per noi è stato il gruppo. Il gruppo e la determinazione in più ha fatto sì che ci ha fatto vincere il campionato. No, devo ringraziare solamente la squadra che mi ha dato l'opportunità di fare tutti questi gol. È grazie a loro che ho fatto questi 22 gol. E per quanto riguarda questa stagione ci avete sempre creduto? Vabbè, è normale che ci abbiamo sempre creduto fino alla fine, infatti si è visto che fino alla fine...